il giro di boa si riparte con la matricola orzi nuovi lorenzo una bella ripartenza insomma ormai l'obiettivo è fare il meglio per posizionarsi bene per i playoff sì assolutamente siamo ripartiti bene con l'anno nuovo era una vittoria importante è stata una vittoria importante quella con monte granaro perché veniva dopo dopo una sconfitta nel derby abbiamo vinto contro monte granaro appunto che era la seconda in classifica quindi a maggior ragione una vittoria ancora più pesante e adesso ovviamente il nostro obiettivo è quello di continuare il più possibile questa striscia vincente anche nell'anno nuovo per posizionarci il più in alto possibile per i playoff avere il fattore campo ma anche soprattutto vogliamo abituarci a vincere perché ai playoff sarà sarà importante anche ecco avendo una partita dietro l'altra essere solidi mentalmente noi vogliamo vogliamo arrivare fino alla fine tutti ti conoscono come grande tiratore però soprattutto in questa prima parte di di stagione ti abbiamo visto aggiungere diverse cose importanti ti vediamo molto più spesso in penetrazione nel tiro nell'arresto e tiro della media distanza e alle volte anche a portar palla stai aggiungendo cosa il tuo gioco sì sicuramente era un mio obiettivo già già da tempo quello di aggiungere un po di armi diciamo nel mio bagaglio ecco tramite ovviamente gli allenamenti durante la settimana la fiducia che che mi danno i miei compagni soprattutto mi viene poi più facile poi durante la partita anche provare delle soluzioni nuove senza avere diciamo il timore di sbagliare e quindi bloccarmi un attimino però devo dire che sì era il mio obiettivo già già da tempo sta andando un pochettino meglio ma non non mi fermo ecco ecco